Cari amici di Osaka e dell'Istituto Italiano di Cultura di Osaka, sono Massimiliano Rolf e lo scorso anno ho avuto la fortuna di tenere un concerto nella vostra splendida città durante una bellissima torna in Giappone. Volevo mandarvi un saluto in questo momento in cui l'Italia e il Giappone sono così distanti e eccovi quindi un estratto da uno spettacolo teatrale di cui ho curato la musica e l'ideazione dal titolo Italian Life in Contemporary Time. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.